Sono felice, io ho la delega alla gestione dei beni confiscati e oggi questa evidenza della valorizzazione di un bene confiscato per un'attività così bella, viene ristrutturata anche con fondi privati, è veramente la magnifica rappresentazione di quello che noi vorremmo fare con tutti i beni confiscati. I beni confiscati rappresentano una grande risorsa, abbiamo il dovere etico, morale di cercare di valorizzare tutti i beni confiscati, affidarli ad associazioni meritevoli che ne valorizzino non solo la struttura ma soprattutto la destinazione sociale, perché i beni confiscati non vengono regalati, non vengono donati, noi abbiamo bisogno di un ritorno sociale, Il ritorno sociale deve essere concreto, pragmatico, deve essere anche valutato nella sua dimensione temporale, perché noi saremo molto impegnati con il servizio beni confiscati a valutare attentamente i presupposti, i criteri, i parametri di assegnazione del bene, ma dovremo anche valutare periodicamente qual è il ritorno per la cittadinanza.